Sono Giulio Esposito, titolare dell'azienda Lineon & Company. Più che un'azienda, direi che è un laboratorio sperimentale di arti applicati in introduzione. Sono Francesco Esposito, il figlio di Giulio Esposito. Io sono partito nel 1984 come gratico e poi dopo tre anni, nel 1987, ho fondato la Lineon & Company. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di innovazione sia a livello professionale che a livello personale. Mi piace sperimentare sia nella lavorazione, anche nei colori e nelle sfumature, per far sì che risaltino su questa materia bellissima che noi troviamo. Stiamo sperimentando nuove forme per realizzare nuovi oggetti da collezione e gioial di modelli. Io sono interessato al digitale non solo per la produzione, ma anche per la vendita attraverso i canali digitali. Ci sono tante altre cose da scoprire attraverso queste nuove tecnologie. Grazie per la visione!